Il comunicativo. Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria. Ideato e condotto da Igor Righetti. Buona comunicazione Italia, mamma mia. Le nostre due mascotte evasione fiscale annunciano l'ingresso della giornalista Monica Lapadula, conduttrice di Una Mattina Estate su Rai 1. Buona comunicazione Monica. Grazie Igor, buona comunicazione a te, buona comunicazione a tutti. Grillo ha attaccato i giornalisti dividendoli in tre categorie, gli indipendenti, gli schiavi e i grandi trombettieri del sistema. La pensi così anche tu? No, non mi trovi d'accordo con il Grillo pensiero, però possiamo aggiungere qualche altra categoria. Innanzitutto vorrei ramentare uno stile che aveva Grillo un po' di tempo fa, quando nei suoi spettacoli forse ricorderai, spaccava letteralmente, faceva pezzi dei pc, quasi come un rifiuto nei confronti di questa tecnologia che avanzava in modo prepotente. Lo ricordo, con un'ascia rossa. Con un'ascia rossa, quindi molto poco coerente, no? Allora io aggiungerei la categoria dei giornalisti coerenti, quelli che conservano un'ottima memoria dei fatti e quelli che da bravi trombettieri dell'informazione sanno suonare la notizia al momento giusto. Tu fai informazione in tv, come si differenzia da quella della carta stampata? Le differenze sono tante. Intervistare una persona per un quotidiano e fare un'intervista invece televisiva ha delle differenze che riguardano i tempi, lo spazio. Anche intervistando la stessa persona non uscirà mai fuori lo stesso tipo di intervista. In tv intervengono appunto i tempi televisivi che bisogna rispettare, magari si taglia e cuce un po' di meno per utilizzare un termine tecnico. Quando invece realizzi un'intervista per un giornale devi attenerti necessariamente a quegli spazi, quindi la notizia deve essere scritta necessariamente in quello spazio. Poi hai l'opportunità invece in tv di guardare il volto, il linguaggio non solo i gesti, quindi il linguaggio non verbale che va a condire, se volessimo utilizzare un termine particolare, ancora di più la notizia o un'intervista. Il 93% di ciò che passa in televisione è proprio il linguaggio del corpo, quindi è davvero importante. Monica, chi è oggi un bravo giornalista? Un bravo giornalista è certamente chi non si prende molto sul serio, anzi io ti ringrazio per avermi invitato in questa trasmissione perché è un po' allo stile americano e quei giornalisti che sanno ben utilizzare l'ironia, ironia utilizzata in modo intelligente. Per me è questo un bravo giornalista. Grazie alla giornalista Monica Lappadula qui nella tanda del comunicativo con me. Buona comunicazione! Grazie Igor, buona comunicazione a te, buona comunicazione a tutti. Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Ha scatenato polemiche il...